Buongiorno carissimi amici ed amiche, vi dico subito che volevo fare qualche video stasera perché adesso vado fuori per degli impegni quindi torno nel tardo pomeriggio, però ho avuto l'occasione di sentire un po' qualcosa sul mattino 5 e si è parlato sempre del caso di Alice Neri e in base anche a dei commenti che ci sono stati ieri sotto il mio video sento la necessità di fare qualche breve considerazione poi magari ne parleremo meglio questa sera. Mi è piaciuto molto diciamo ciò che ha detto l'inviato di mattino 5 che dice non si escludono clamorosi colpi di scena perché non sono frasi fatte o frasi dette così giusto per dire ma sono considerazioni che nascono proprio dalla incertezza di questa vicenda e mi dispiace che invece per alcuni stia prendendo la piega dei luoghi comuni e della superficialità perché poi in questa storia si cambia idea, si cambia opinione con una frequenza indicibile e soprattutto i fatti, le circostanze, le testimonianze cambiano a momenti e quindi in relazione a quelle che noi riusciamo a sapere così ci comportiamo. Per dirne una, vi faccio qualche esempio insomma si dice che il rapporto fra quell'amico Marco e Alice fosse soltanto un rapporto amicale, qualcuno può sospettare legato anche all'uso di sostanze superfacenti, ma questo non è detto che sia nemmeno così, cioè non è detto che Marco non avesse nei confronti di Alice qualche sentimento di diversa natura perché dimentichiamo che parlando di questi testimoni di quella notte allo Smart Caffè ce n'è uno che riferiva di un bacio appassionato e ricordo soprattutto che si meravigliava di dire non ho mai visto un bacio così appassionato altro che amici, vedete? Quindi se noi andiamo appresso alle varie opinioni e ai vari testimoni che si succedono non perdiamo di vista l'oggettività, come pure in passato si era detto che il Marco era andato via alle 2.30, quindi si era anticipato di un'ora questa andata via dallo Smart Caffè per cui ricordo delle trasmissioni di qualche tempo fa in cui ci si meravigliava che andando via alle 2.30 poi la localizzazione telefonica fosse stata staccata alle 3.41, quindi oltre un'ora dopo e quindi si diceva come mai tutto questo tempo e poi se è stata l'ultima volta localizzata dai presti dello Smart Caffè che cosa ha fatto? È tornato indietro e ricordo lo stesso Matteo che in base a questa dichiarazione furviante, lo stesso Matteo che diceva sì secondo me può darsi che allora questa persona attribuente a Mohammed sia tornato indietro perché probabilmente durante la colluttazione diceva il telefono era caduto e lui era ritornato per cercarlo evidentemente per non lasciare tracce. È ovvio che pensava in questo modo perché era una ricostruzione di ordine logico in cui si diceva forse tornato indietro per guardare il telefono vedete? Perché questo? Perché si va appresso man mano alle varie notizie che escono fuori cioè i vari elementi che si conoscono in quel momento che non sempre sono elementi certi e sicuri oggi si dicono tante cose le macchie sui vestiti le macchie d'olio siamo sicuri che non sia anche questa una suggestione visto che per il mestiere che per il mestiere che faceva egli non aveva insomma questi vestiti immacolati poi si dice è sceso via forella subito dopo qualcuno dice no è sceso via mazzalupi qualcuno dice no è sceso solo via griffona però che cosa fa appiccare il fuoco o non appiccare il fuoco non possiamo nemmeno sapere essere sicuri a che ora è stato appiccato questo fuoco quindi lo fa nel pomeriggio ma se lo facesse nel pomeriggio c'è da chiedere allora come mai lo fa nel pomeriggio chi lo fa nel pomeriggio perché Alice viene posta nel portabagagli soprattutto qual è il senso di tutto ciò ora l'ipotesi che egli sia sceso a a via forella secondo quella sua ricostruzione detta al cognato è senza altro può essere senza altro una una scusa però non credo che sia del tutto da scartare perché perché poi la macchina gira e va in modo molto lento verso via vallalta che potrebbe essere anche una strada sbagliata aver preso una strada sbagliata cercare degli indicatori stradali perché perché lei non poteva attivare diciamo il navigatore del telefono avendo disattivato la geolocalizzazione è un'ipotesi è un'ipotesi è un'ipotesi recondita ma è un'ipotesi perché lo stesso fratello diceva mia sorella se la lasciavi a concordia non sarebbe stata capace di tornare a casa quindi nel momento in cui lei ha questa macchina anche in una situazione un po di di paura diciamo così e magari magari cerca qualche indicazione stradale e allora potrebbe essere e allora dobbiamo per scartare questa ipotesi soltanto vedere queste due auto scure che sono state viste nella notte l'intorno di chi sono dove andavano cosa facevano molto ci si aspetta anche dall'incidente probatorio del giorno 15 in cui secondo me potrebbe venire fuori qualche interessante interessante aspetto forse perciò si dice non si escludono clamorosi colpi di scena bisogna anche vedere quell'altro quell'altro incontro che Alice sembra che abbia fatto all'uscita del lavoro quindi fra le 16 e 30 e le 18 diciamo così ha incontrato un'altra persona si dice un altro ex collega non sappiamo esattamente dove non sappiamo esattamente i contenuti vedete è una storia complicata l'avvocato ghini l'avvocato difensore del galul sembra molto deciso sul fatto della innocenza del suo assistito e quello che io non mi spiego che se lui avesse come dire avesse verificato che effettivamente le prove gli indizi fossero stati così forti contro contro mohamed certamente da buon professionista gli avrebbe consigliato di parlare dell'incidente ecco di avere di parlare di un'assunzione non so di cocaina e queste cose qua che miste ad alcol magari avrebbero provocata ragione un effetto fatale poi lui in preda al panico quella va incendiare il corpo questa versione detta dal primo momento all'avvocato certamente ovviamente avrebbe fatto in modo che il galul si avviasse verso un processo in cui rischiava molto ma molto meno di quello che rischia adesso quindi insistere sulla sua totale estraneità è un azzardo un azzardo che si spiega o con una sorta di incoscienza oppure con con la verità storica quindi abbiamo sempre questo questo messaggio dei colpi di scena che che non si possono escludere poi ovviamente abbiamo ascoltato la testimonianza della moglie che dice vabbè quella è la moglie dice mio marito è un bravo ragazzo eccetera eccetera abbiamo ascoltato il cognato che dice lui è sceso via forelle perché dietro c'era qualche macchina e lei aveva paura che fosse il marito eccetera eccetera e mi ha fatto scendere lì in una zona buia del sesto e poi io sono azzivato fino a casa di mio cugino e poi dice anche che un momento non è scappato perché è stato otto giorni in zona dopodiché come fa sempre va e viene insomma da tutta Europa a fare questi lavori e soprattutto rimarca il particolare che ha sempre tenuto acceso lo stesso cellulare lo stesso numero di cellulare quindi non è che ha cambiato il numero di cellulare come potrebbe fare chi vuole che vuole andare in fuga questo comunque è un elemento da valutare poi parla anche ho visto stamattina mattino 5 un altro cugino che anche lo difende dice assolutamente non è una fuga lui è sempre stato abituato ad andare e venire per questi lavori in Italia anche in Europa è uno che chiede sempre passaggi perché non ci sono mezzi pubblici lì da attorno lo conoscono tutti è un simpaticone diciamo così e quindi poi dice fumava qualche spinello ma non trafficava in questo poi per quanto riguarda quelle macchie si dice dice io non l'ho mai visto pulito per il lavoro che fa quindi in studio in studio in verità c'è un muro ecco c'è un muro di gomma dallo studio dagli opinionisti in generale anche un po dal modo di commentare si pensa che sia una protezione di una comunità intorno a questa persona ora io vorrei evitare sempre di costruire schieramente noi i muri li dobbiamo abbattere non li dobbiamo sollevare quello che su cui abbatto è che non vi debba essere un pregiudizio abbiamo sì una sentenza del tribunale della libertà che dice gli elementi ci sono magari c'è un pericolo di fuga e per il momento è opportuno che lui sia in carcere però è anche vero che non è che sono stati tolti dai registri degli indagati il marito Marco e non è che la procura non sta facendo altre indagini su altre persone non sono chiuse perché se fosse così pacifico e schiacciante la cosa la procura nel giro di una settimana due settimane chiude l'indagine dice queste sono le prove e andiamo a giudizio quindi si proscioglie subito si cancella dal registro degli indagati il marito Marco o quant'altro perché invece non è così quindi noi dobbiamo ecco non avere un pregiudizio perché magari i nordafricani sono così eccetera eccetera oppure addirittura ho sentito dire uno che minacciava le donne per differendosi a quella diciamo quell'episodio mi sembra quella amica mi sembra si chiamasse Patrizia non potete sbagliare che però è un altro fatto un po' originale se vogliamo dirla tutto perché se è vero io non ho motivo di dubitare di questo fatto del prestito, del denaro, del filmino però è per lo meno paradossale che una persona che subisce un trattamento del genere invece di allontanarsi quantomeno continua a frequentarlo telefonicamente da vicino casa sua con la moglie andare a casa sua insomma mangiare insieme è tutto come se fosse grandissimi amici di famiglia è un atteggiamento un po' originale uno che ha paura che teme quantomeno cerca di allontanarsi di non frequentare la persona invece sembra che questo non sia mai avvenuto quindi non si escludono clamorosi colpi di scena e il mio dubbio diciamo quando dico clamorosi colpi di scena non me ne vogliate ma insomma il mio pensiero va soprattutto a Marco non voglio accusare nessuno per carità ma dico come a livello di dubbi perché è un comportamento diverso dagli altri mentre il marito Nicola ha dato subito la sua disponibilità comunque a verificare, a controllare, a detto, a fatto e credo che i carabinieri abbiano verificato anche gli alibi magari dei colleghi del lavoro, il confidente e quant'altro però lui diciamo è la persona che è stato più vicino per tante ore che bacio non bacio aveva un rapporto sicuramente particolare con Alice per cui il fatto che si sia rifiutato di rispondere non dice nulla il fatto che non si sia più presentato al lavoro il fatto che se ne sia scappato addirittura il fratello dice ha messo quattro avvocati è un atteggiamento un po' troppo guardinco non lo so come definirlo perché se una persona non ha niente a che vedere con questo terribile omicidio e non sa niente dice tutto quello che sa a cuore leggero non c'è problema quindi ecco perché vedete non si può escludere non si può escludere nulla con questo non voglio dire che Imonet Calul possa essere innocente molto probabilmente forse in percentuale diciamo che a 70-80% può essere lui colpevole ma noi non possiamo ragionare in percentuale quando si gioca, si ragiona con la vita delle persone perché lui comunque è un giovane è un giovane sposato da pochissimo che praticamente ha tutta la vita davanti quindi non ci si può permettere un esore giudiziario immaginate questo ragazzo se è colpevole è giusto che paghi magari pure stando una vita in prigione ma attenzione non partiamo dai pregiudizi, dai preconcetti perché noi ci siamo sempre vantati in Italia di essere così aperti, l'accoglienza eccetera eccetera gli extracomunitari ora non possiamo dire a prescindere no, quella è la comunità, lo protegge eccetera allora vediamo allora togliamoci tutti i dubbi ecco, togliamoci tutti i dubbi di quelle macchine come mai la mito bianca, il Said insomma tutti i movimenti di quella notte le frequentazioni magari la cocaina da dove veniva vediamo di ricostruire il quadro generale dopodiché ecco quando sarà il quadro più chiara la situazione più limpide allora ci potremmo fare un'idea un'idea migliore quindi io vi lascio con con la frase non si escludono clamorosi colpi di scena vediamo vediamo non è non è così facile secondo me non è così scontato grazie un abbraccio a tutti quanti voi ci sentiamo in tale serata per per altre novità per fare altre quattro chiacchiere fra noi ciao ciao